Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video sono presenti tutti i collezionabili che è possibile raccogliere in questa zona e sono tutti posizionati in ordine cronologico in modo che possiate raccogliere il tutto mano a mano che avanzate nella zona o nel gioco. Buon proseguimento! Che ricordi? Ma non ce l'ho fatta. Un altro spirito esiliato dagli Aesir. Odino sarà stato davvero furioso quando Freyja l'ha lasciato. Odino non intendeva fermarsi, per questo ha mandato Thor. Ma che è successo? Forse quel diario che gli è accaduto ci dirà qualcosa. Scritto da Birgir. Forse è proprio con lui che ce l'ha quel tizio. Nimir, puoi sgridarmi? Se vuoi. Per la mia fuga. A che cosa servirebbe? Ti sentiresti meglio? No, non ti sei fidato di me e mi hai nascosto le tue preoccupazioni. È una ferita ancora aperta. Scusa? Non devi scusarti. È colpa mia. Alla tua destra! Alla tua destra! Ragazzo, sbaglio o ho la sensazione che tu abbia conosciuto la figlia di Thor? Sì, Trude è una grande Un giorno vuole diventare una Valkyria E se lo meriterebbe? Ovviamente le ho raccontato delle Valkyrie che abbiamo affrontato Ma non so se ci abbia creduto Quando ho provato a raccontarle di suo nonno poi non è andata Sento sangue Qui c'è un terreno di caccia Ah, bene Allora è meglio essere pronti per combattere Sapete, mi mancano quei bei draghi di Midgard Non dovrebbero rimanere molti altri draghi Allora che aspettiamo? Vivono coraggiosa La guerriera bionda era sicuramente Faye, fratello Sì, mamma contro Thor Non capisco se Faye sia stata audace o spavalda Pochi possono vantarsi di aver affrontato Thor Non capisco solo Non capisco Non capisco Non capisco La guerriera bionda è a sinistra sta fuggendo ehi ragazzo è Trude quel qualcuno che ti piace Trude? no nel senso non mi riferivo a nessuno in particolare e ecco Trude piace a Schiolder ma a lei interessa solo diventare una battaglia si impegna sai va bene ragazzo va bene ma sappi che se vuoi parlare di qualcosa di cui abbiamo già discusso stop fratello c'è dell'ostilità urgente nulla di interessante fratello c'è qualcosa che non va con la carcassa i draghi non lasciano questi segni quei segni li abbiamo già visti nelle miniere di Volunda ricordi qui intorno deve esserci un mangiare sento gli animali hanno paura già cerchiamo altre carcasse i mangianime si nascondono in piena vista un'altra carcassa allora siamo sulla strada giusta ci stiamo avvicinando ricordo che l'ultima volta sembrava solo un mucchio di rocce stiamo all'interno si alcune rocce state pronti è finita forse ora la vita prospererà di nuovo nella valle penso che Andvari sarebbe felice se ne uccidessero ancora un mucchio Andvari? il nano che ha messo l'anima in un anello? esatto ha creato i mangiare a proposito che è successo a quel fastidioso rompipallo? lo ha prestato a Sindri dice di averlo perso ah ah perso non ci piove è proprio come il fulmine congelato a Midgard qui non ci sono mai stato strano arriva il drago occhio occhio il drago sta tornando nella sua dana spero che Birgir possa resistere un altro po' altri sedi è impossibile oltrepassare la barriera dei sede forse possiamo entrare dall'eredi vive furia fortuna che hai studiato le rune per favore Oh 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 Voi Posso parlarvi? Così ti racconterò cosa subito il giorno Thor voleva fare a botte con i militari Vanir I Vanir combattevano gli Isiri in questa valle Già, una battaglia che infine i Vanir persero Ma cosa c'entra il fulmine congelato con questo compito? No 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 molto colti che furono trasformati in draghi. Però... Sì! Fagliela vedere! Aveva con sé un documento. Prendilo, vediamo. A quanto pare ai viandanti è stato detto che esplorare i nove regni e dintorni offre una via per il paradiso. Chi l'ha detto? Qualcuno che si faceva chiamare ospite cieco. Odino. Sembra quel bastardo, non vero? È alle strette! Ora dobbiamo trovare Birgir. I animali. Riesco a sentirlo. Dicono che quello era l'ultimo drago. Ce l'hai fatta? Ce l'abbiamo fatta. Puoi dirlo forte. e l'abbiamo fatta. Sì. 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 sono qui assurdo che tu sia sopravvissuto alla caduta come hai fatto? rotolando ci si vede questo non mi serve più forse ci rivedremo al campo e in circostanze diverse, magari beh, ora che Birgir è in salvo possiamo andarcene o esplorare un altro po', se vuoi il cervo dell'inverno sembra affamato andiamo, torna indietro con me non mi interessa quanta famiglia che non solo è con più stile, ma... grazie vuole dire... prego sono sorpreso, fratello pensavo che i cervi sarebbero scappati in preda al terrore vedendoti grazie grazie Beh, puoi stare tranquillo, li riporteremo a Ratatosker Grazie, mi scuso di nuovo se vi ho offeso Vi prometto che sarò più d'aiuto la prossima volta Un tipetto nervoso, eh? Grazie Grazie Nimir, ad Asgard ho visto Dino con alcuni nuovi Ain Eriar Sembravano senza ragione Poi ha lanciato un incantesimo e ha restituito loro l'identità Già, era un suo vizio, anche quando erano confinati nel Valhalla Credo che restituire loro dei ricordi fosse un ulteriore modo per ingannare la morte in ogni modo possibile Ma non mi sorprenderebbe se insieme a quel dono conferisse loro una lealtà in peritura nei suoi confronti Pana di droga L'avevo Auca! Merda! Così si chiamava Sto cercando di ricordare chi l'avesse fatta incazzare Non importa Ah no? Se rimane solo la rabbia, le motivazioni sono irrilevanti Mi miro Non so come chiedertelo Odino mi ha raccontato delle storie Tipo come ha perso l'occhio Dove i dettagli sono diversi rispetto alle storie che mi hai raccontato tu Mi fido di te, certo Ma non capisco perché dovrebbe mentire su cose simili Ragazzo, ricorda una cosa sui bugiardi Mento Lo fanno per principio Non importa quale sia la questione Mentono tutte le volte che possono E se non riescono a farlo per qualche motivo Qualcosa di illuminante? Ci l'avete fatto a vostro Kratos? Spettacolare Continuate così e diventerete un vero esperto Non capisco se è condiscendente o semplicemente triste Entrambi Entrambi Grazie a tutti Arrivand общine Scissorger bank Gli è caduto qualcosa? Jotanai Per fortuna E pare che abbiano vagato per tutto il creato con questo scopo A ogni modo, credo fosse l'ultimo degli assassini Forse dovremmo dirlo a Birger Ecco quello che c'è Queste storie Ho visto Fain preda l'ira, ma mai fino a questo punto Nascondiamo ciò che ci imbarazza, fratello Mamma deve aver odiato Thor per quello che ha fatto ai giganti Forse era quello il motivo Oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa sta facendo il fuoco fatto alla gazzella? Fermiamolo. L'hai spaventato? Sta tornando nella sua sorgente. Come dici? Prego. Che gentile. Diamo un'occhiata in giro per vedere se altri fuochi fatui sono fuggiti. Guardate. Una placca con delle rune luminose. Avrà qualcosa a che fare con i fuochi fatui? Un altro fuoco fatto. Sta mangiandolo ognuno. No, ero spaventato. E soffriva. Non più. Un altro fuoco fatto, quindi la placca tiene i fuochi fatui imprigionati nella sorgente. Beh, a parte quelli che sono fuggiti. Ti servono delle cure. Ok. Se ne sei sicuro. I fuochi... Bene. Le rune sono illuminate. I fuochi fatui sono nelle sorgenti e la placca non li farà uscire. Ce l'abbiamo fatta. Dicevi? Ci devono essere uniti! I fuochi fatui sono sostenuti. Non resistono per sempre. Prima o poi chi è incatenato si libera. In un modo o nell'altro. Puoi dirlo forte, fratello. Puoi dirlo forte, fratello. Padre, qual è la cosa più grossa che hai affrontato? Non lo so. Non ti ricordi? Perché lo chiedi? Non so. Per confrontarci? Non è una gara. Beh, non ancora. Mimir, proseguiamo con il discorso sull'infanzia di Magni e Modi. Quindi Thor li picchiava molto? Già. Una lezione tossica di virilità tramandata per generazioni. Un'eredità truce che li impoverì uno dopo l'altro. Basta. Continuiamo dopo. Bene. Ora puoi aprire quel cancello senza che l'orco ci lanci roba a grosso. Ora puoi aprire quel cancello? Rimobbire. Con la ruota. Nessa un'edit. Non. Mi prude la faccia. Penso mi stia crescendo la barba. Ah, sì? Sì. Vedi sulla mia mascella? Sta crescendo. Ah, sì? Ah, non è sporco? Non è sporco. Questo era l'ultimo schema mancante. Penso che presto avrete delle nuove else per le spade. Primavera, rinascita, rinnovamento. Oh, quanto mi mancava il profumo di quei fiori. Scusami piccolo, si torna a casa. Si è stata colpa di rancore. Non era il nostro scopo. Mi accontento. E questo è quanto ragazzi. Grazie a tutti per la visione e vi auguro una buona giornata.